È terminata la partita del campionato 19 nazionale tra Sainz Spagnano e Cardano 91. Qua con noi Enrico dai Sainz, mentre vediamo le sue parate e le azioni a lui chiediamo un commento sulla partita. Buongiorno a tutti, la partita di oggi diciamo che siamo entrati subito male con la testa, perché è stato questo qua il nostro punto debole, ma comunque ci abbiamo provato. Alla fine abbiamo fatto quello che potevamo fare, anche se sicuramente qualcosa in più si poteva fare. Ti ringrazio Enrico per la video intervista e ci vediamo sui campi di Calcio 5. Ok, grazie mille, arrivederci a tutti, forza Sainz! Ed ora per i giocatori del Cardano è qua con noi Edoardo, mentre continuiamo a vedere le azioni, anche a lui chiediamo un commento su questa loro vittoria. È stata una partita molto difficile, stati bravi gli avversari, abbiamo saputo soffrire e nel momento del bisogno abbiamo saputo concretizzare al meglio le occasioni. Speriamo che continui così il nostro campionato e che vada sempre meglio. Ti ringrazio Edoardo per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te Ivan e forza Cardano!